All'improvviso è sbocciata la primavera e nelle colline della vallata Stilaro ecco giungere i primi amanti della natura attrezzati con gli erbari dove riporre le piante da catalogare. Sicuramente avranno tanto da lavorare perché in questo lembo di Calabria ne sono state classificate più di 700 specie diverse da esperti naturalisti e botanici. Tra questi, quello che ha dato più attenzione al territorio nelle sue escursioni in Calabria è stato Enzo Vona, di capo di ponte nel Bresciano, tra i più importanti naturalisti italiani e non trascurabile il lavoro di Giuseppe Pisani che tra l'altro ha dedicato un libro sui funghi delle serre Calabre. Non mancano quelli che vanno alla ricerca delle piante officinali e tra queste quella più apprezzata è la salvia, pianta profumatissima di questa zona che desideriamo ricordare perché in un antico documento del 1700 è riportato testualmente. In Bivongi, Calabria ulteriore, vi è un monte che produce molta salvia riputata la più perfetta che sia in Europa. I maltesi la comprano a caro prezzo. Di queste piante sarà opportuno riservarne la descrizione nella coreografia della provincia. Di sicuro, tra le specie più belle osservate, le orchidee spontanee. Non sono specie tropicali di grande dimensione, spesso cresciute sugli alberi, come potrebbe sembrare dal loro nome, ma di piccole dimensioni e sostanzialmente terricole. In comune hanno le abitudini vegetative e i meccanismi riproduttivi. Le nostre sono piante perenni e per il loro ciclo vegetativo hanno bisogno dell'aiuto degli insetti, che spostano il polline da un fiore all'altro, garantendo lo scambio genetico. Delle poco più di 100 orchidee vegetanti nel territorio italiano, nella vallata ne sono state classificate 22 specie diverse. Tra queste, alcune sono di grande interesse scientifico e rare. Vivono in boschi ombrosi, sui prati aridi, sui pascoli rocciosi e si adattano anche al margine delle strade. In questi giorni abbiamo osservato la più diffusa, l'italica, nella zona di Montestella di Pazzano, nella zona bassa di Stilo e nei pressi dell'abitato di Bivongi e lungo la strada che porta all'aria Pratora. Quindi la Provincialis, nella strada che porta a Montestella e alla cascata del Marmarico. Qui l'acqua del fiume dialoga con il territorio, creando un abitato dove vivono piante introvabili altrove, come alcune felci molto rare. Poi la Serapias vomeracea, che abbiamo individuato anche all'interno dell'area verde del monastero di San Giovanni Terestis, dove i monici le proteggono e le salvaguardano quando tosano l'erba. E ancora la Bertoloni, ai margini della vasta aria Pratora, definita il giardino delle orchidee, che purtroppo non c'è più in quanto distrutto perché arato dai trattori. Per quanto detto, possiamo senza presunzione dire che Bivongi, Pazzano e Stilo sono circondati da un vero giardino botanico. Nota positiva che dopo 14 anni, da quando l'Associazione Il Paesano ha divulgato con un libro le piante in genere e in particolare le orchidee spontanee, si stanno organizzando convegni mirati a divulgare le bellezze della nostra flora, cercando di coinvolgere anche la politica per dare il via a progetti come orti botanici, segnaletiche e tabelle informative. Tutto ciò anche per un incremento turistico. Tutto ciò anche per un incremento turistico. Tutto ciò anche per un incremento turistico.